Ciotole mescolatrici premium da 2 e da 3,5 litri e scudo antischizzi. Sono ideali per mescolare, impastare, sbattere, frullare, emulsionare, marinare, scolare, preparare, trasportare e conservare ogni tipo di ricetta. Il borde è ampio e permette di afferrare e scuotere le ciotole anche quando sigillate per amalgamare i condimenti di un'insalata oppure per impastare shakerando. Lo scudo antischizzi si adatta a tre capacità, quella da 1 litro, da 2 litri e da 3,5. È ideale per scolare anche i chicchi più piccoli tipo riso, couscous e quinoa. Delle impronte sulla superficie dello scudo segnalano dove posizionare i pollici per scolare. Si può usare per sbattere e frullare anche con lo sbattitore elettrico senza più schizzare. Il foro centrale è studiato per utilizzare gli inserti di aiuto cuoca e Magic Mixer per il bagnomaria. Per ogni utilizzo la ciotola della giusta dimensione. Inoltre la scala graduata interna alle ciotole permette di usarle anche come bilancia, tutto in uno e la cucina rimane pulita e ordinata. Base piatta sul fondo per garantire stabilità e agevolare mentre si mescola o si impasta. Sigilli ermetici e liquidi con linguetta per facilitare l'apertura. Riponibili l'una nell'altra quando non in uso. Sono lavabili in lavastoviglie e adatte anche ad alimenti caldi fino a massimo 85 gradi centigradi. Se il video ti è piaciuto scrivi un commento e lasciami un like. E se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale e attiva la campanella.